Musica Benvenuti al concerto appuntamento con le previsioni meteorologiche. Andiamo a vedere il meteo per la giornata di venerdì 11 gennaio. E cominciamo da Avellino. Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata. I venti saranno deboli, attenzione al ghiaccio. A Napoli cieli sereni o poco nuvolosi, i venti saranno moderati, mare mosso. A Salerno cieli parzialmente nuvolosi per l'intera giornata o sereni. I venti saranno al mattino deboli, al pomeriggio moderati, mare mosso. A Benevento nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, i venti saranno al mattino assenti o deboli, al pomeriggio moderati, attenzione al ghiaccio. A Caserta cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, i venti saranno deboli. Anche in questo caso stiamo attenti al ghiaccio. Le temperature a Avellino, temperatura massima 5 gradi, la temperatura minima scenderà fino a meno 4 gradi. A Napoli temperatura massima di 8 gradi, la minima 3 gradi. 9 gradi invece la temperatura massima a Salerno, 4 gradi la temperatura minima. 5 gradi la temperatura massima a Benevento, meno 4 gradi la temperatura minima. E concludiamo con Caserta, dove la temperatura massima raggiungerà i 9 gradi, la minima meno 2 gradi. Ed è tutto anche per oggi. Grazie a tutti.